paracaduto fai atterrare l'aereo? tu che dici Sammy? ok perfetto signori ben ritrovati io direi che sei per paracadute? è un uomo d'azio che non è l'aereo? lui non vuole ma io dico qua almeno che non lo fai atterra su una rotonda, citazioni caro mio, caro mio è di lampo è raro eh, c'è un bagno da fattere te se veni da me no no dopo, te lo spiega dopo dai il naso fa attrito poi rallenti no è tranquillo, poi ci sta paracadute c'è già la tuta l'aria con quel naso lì bravo scusate, è venuta con il flusso, vedi? eh, no donna ragazzo, parte mega interrompi il flusso, vedi? flusso ok, Ghostbusters here it is io solo dico madonna, ciao cos'è grenade brother? aspetta che non anch'io brother? brother ciao Emily ti ammessi quando arriviamo a piedi oddio quindi? come salta? ma che cazzo? ma è pallavolo praticamente, cos'è? sembrerebbe si ma io io non riesco a farlander da me madonna 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 ma si ma si muovono, sembra che ci sono le pattine le fettine panate sotto sotto le scarpe e sti cosi poi sono delle H cosa sono? ma no non è vero, l'ho preso madonna no ma vedi che strontro, lo devi prendere per forza a ecco, con le manine lì se sono manine ma vaff... ma si ma vaffanculo gioco di me, a me esisteva davvero sto gioco che astio ma porca questo è gameplay ragazzi eh ma vaffanculo ma vaffanculo mamma vaffanculo madonna eh roberto carlos ma vaffanculo ma vaffanchio ma vaffanchio come è possibile no scusa eh stavo provando se ci erano dei altri tasti eh eh cazzo è possibile che ci fosse un gioco anche nel settanta con un solo tasto si direi di sicuro no vabbè è inamovibile proprio guarda Ma non è vero, però sei bastardo! Tu l'hai toccato... tu l'hai toccato... a destra! Ah, io so palpatine, tocco! Guarda che non tocca a te! È fallato! Ma porca! Fall out! Ma non ce la faccio, giuro! Cioè io non la vedo, sto laggando, non lo so! Eh, guarda! Madonna! Madonna! Palunetto! Gli fai il campanile di totti! Eh, vabbè, ma dai! Non riesco a muovermi con questa cosa! Che poi se stai fermo, guarda, rimbalza... Guarda! Eh, sì, vabbè! Guarda! È falso, devi star fermo! Eh, vabbè, vaffanculo però! Eh, muori! Guarda che fa anche con le manine! Possiamo andarcene, che mi fa cagare la vita! Direi che sì! Vediamo se c'è qualcosa per i dati! Eh, guarda la visuale tua! Cosa hai tu? Un libro? Eh, la pialla! No, io volevo un piallare! Ma... Non capisco questa cosa che è tutto il gioco che ci fa fare! I lavori con gli attrezzi! Questo è l'hangar di Emily! Sì, guarda! C'erano delle freccette ma... Eccolo! C'è da staccare il tubo sotto l'aria! Sì, sì! Aspetta che guardo qua cosa c'è! Eh, madonna! Ma c'è un elicottero! No, in D! Colonnello! Cosa ci fa quell'elicottero russo? E lo rubo! Allora, vediamo... Cosa sta facendo? Io so che sta per fare un danno enorme! Sì! Da 800 mila euro! Aiuto! Eh, sto volando via io! Mi tiro fuori! Ma questo è il sangue italiano che c'è in te! Sì! Bella figura di merda! Tocco tutto! Scherzo tutto! È male a lavare le mani nel frattempo che ho lavorato! Non ho fatto niente io! Ho anche perso il video! Ho lavorato! Trofeo guadagnato! Eh! Io guadagno i trofei e se no! Io non posso prenderli e neanche un trofeo però dai! Non si fa così! Almeno farmi vedere i trofei che hai preso tu! No, c'è scritto? C'è un libretto di istruzione che se io pago altri 30 euro tu prendi i trofei! Perfetto! Quando vuoi allora eh! Aspettami! Vabbè che corsa sciolta proprio! È quello di prima! Vai! Hai fatto... Guarda che hai fatto sboccare tutta la benzina! Sweat! Sweat! Minghie! Vai Gucci! Sì! Dai che andiamo! Cosa c'è il rumore dell'aria? Uno fa... Si per fare... In sala di registrazione c'era uno che sfrattagliava! Quello di scuola di pulizia! Il nero! Come si chiamava tra l'altro? Eh non mi ricordo! Ma che il Barry mi viene in mente! Adesso addormentato Valese guarda! No! Tu? Un pochino! C'è sufficiente per mantenermi concentrato! No! Allora! C'è un altro cruscotto davanti agli occhi! Come fa a guidare questo! Adesso fa... Peruglia tutto il tempo! Hai finito dai! Ti ha fatto i cazzi tuoi! Sparare! Me lo scopo io! Eh! Sì! 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 Non voglio interferire! Ma ho avuto una situazione simile con Linda! Quindi ho deciso di scrivere una lettera! E non funzionava! Ho lasciato tutto e mi ha dato una seconda chance! Sì! Sono consciente! Sì! 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 Però è bello il doppiaggio! È bello! È bello! Sì! Sì! Ho lavorato in banca fino a ieri! Sì! È proprio... Questa altro che scrivere lettere di... Di notifiche! Ho mancato pagamento! Ingiunzioni di pagamento! Il film domestic! Vabbè dai! Sì! Arriviamo sto cazzo di Messico e facciamo saltare qualche testa! Per l'amor di Dio! Ah è su! Dai eh! Guarda! Dello Stward! Ma che urli! Sì! 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 Aspetta qui qui! Madonna! Ho manco aperto il portellone! E ciò! La carabina! Incredibile! Mangiati! I fratelli Drake! I fratelli Drake! E l'asso! Ma la vedrà subito! Vedrai che non va eh! Bastardo! Oh! 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 Ma tu vieni giù e sembri Iron Man! Sì! Oh! 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 Vincent! Vincent! Oh! Ti sentirà! Eh! Oh! 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 Ma ci stai credendo! Mi devi venire a prendere! Mi devi venire a prendere! Mi devi venire a prendere! Ha tirato la leva! E ha perso il barcatutto! Aiutami! Vieni a prendere! Ti prego! Vieni a prendere! Ma dove cazzo? Dai! Vieni a prendere! No no no! Imbecille! Coutinho! Sei un cretino! Ha 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 ha! Ritualmente gliorge! Forca doada! Eh sii! Siete un'ula! Uuuuh об no! Forca doada! E' stato veramente bello quando ho tirato la corte, ho usato via tutto, ho perso anche l'arma. E' vero, là dentro c'era rotto il brazzo. Non c'è il modo che si chiara la renda, ah? Nel bush? Nel bush! Ma che scena madonna quando gli hai volato via lo zaino che ridere! Che boia! Ma non è vero! Come ho fatto tutta l'allarma? Ma non è possibile! Ma non è possibile! Non è possibile! Sai che devi fare la cacca qua! Sì sì! Guarda che mi dà la madre! Guarda la principessa guarda! Eccolo! Eccolo! C'erano le armi tipo gli scudi di Dark Souls che bollano! Sono attaccate con... Eccolo! Eccolo! Ma una volta in una scena c'hanno la canna verso l'alto e nell'altra c'è la luce! Ti piace variare! C'è la cavezza! Facciamo un stealth! Eccolo! Ok! Mira e sparo... No! Subito! Eccolo! Eccolo! Io nel cazzo le fai scoprire! Eccolo! 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 Si ma io non vedo un cazzo non riesco a sparare così porca troppa! Eccolo! Rotola madonna! No ma sto guardando la X del rotola! No due colpi per uccidere? No veramente! Come si fa a ricaricare? R1 Non mi ricarica ma... Ah ok! Anche perchè schiaccio L1 Vabbè comunque ci sta dai buttarla in cacciara per... Tranquillo! Allora fammi vedere... Oh Dio! Donna rotolo! Madonna! Rotolo! No spariscono le armi! Niente! Non possiamo rubargli! Sì! Va bello! Aha! Fa! Se no non ce la faccio! Cosa fai? Eh! Devo invertire la mira! Come in... Ah! Perché tu lo usi... Eh sì! Invertita! Madonna! Che cazzo è il gioco... Elite Dangerous! Sta guidando... Eh io non ce la faccio! Ma chissà perchè... Che ti sparti! E urla un po' di più! No ma tanto li abbiamo uccisi tutti! Di primi... Ma comunque sei caduto con quattro scagnozzi! Sì sono una deficiente... Oddio! Bello! Complimenti! Stava sparando da tutt'altra parte! Ma in realtà cosa sta a fare di un attiartello? Sta sparando a Godzilla! Unica Godzilla! Ma cosa fai? Ma stai giù! Oddio! Boosh! Un attino! Guarda qua trovo io! E' una tosca! Guarda io! Guarda io dove sparo! Perfetto! E' comunque programmato meglio dei giochi della Ubisoft! Guarda io! Vedete le volte nel socio! Vedete! Guarda i OSKO! Guarda poi da in Rouba, ma questa %za あpra! Guarda tu! Perfetto è? Ogni ora! Guarda voi la cifra! Guarda con gli EC-5e! Guarda tonere! Guarda con gli OC$ e spari! anche questo qua c'è un cecchino incredibile guardate cambia pure spalla che si è fatto meglio del gioco mi aiuta l'audit boh bravo bella figura di merda cecchino c'è anche la birretta questa qua se la godeva donna tu mi copri perfetto la madonna è veramente difficile sparare però da soddisfazione si va bene ma non hanno reazione guarda l'ho preso un... oddio boh oh è soddisfazione donna vabbè tu devi vedere l'animazione di quando ricarico è veramente una roba pazzesca abbiamo aspettato questa fase action da un pezzo ma oddio non so se effettivamente donna rotolato sono le parti migliori oh io eh io non lo vedo a te lo sa ah ci penso io è andato è andato un shot vai quella Ah, cazzo, muori, madonna Oh, madonna Oh, 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 oh L'hai fatto volar via, Cristo Le puzze di sangue Eh, ok No, dai, sali, Cristo, devo fare le scale Eh, vabbè, io li prendo, ma non mi... Ah, ah, no, ce n'ho uno qua Devo andare via Eh, no, no, così sto facendo... Sto vedendo dentro un posto dove non dovrei Ci sono delle granate, no? Un radar Un 90 C'è una freccetta verde E dove dobbiamo andare? Come, Leo Ah, no, sei tu Ah, arrivo Io so anni che mi chiedo Perché non riescono a fargli una tracolla No, veramente, cazzo Non ci vuol tanto E le armi Porca Eva E io continuo a guardare Io, fortuna, guarda, fortuna che c'è un quello sotto Perché mi viene più facile guardare Che cosa, che cosa, cosa dovevamo fare, non ho capito No, non lo so What the hell is this? It's a dinosaur What are you, Hans? Too bad I'm not a marathon Wow Che bello Wow, ma non l'ho conoscevo che Mexico era così bella Sì Eh sì Ma magari ce l'hai da mezzo E' anche poco pericoloso Sì Eh sai Se ci vuoi andare in orizzontale Una bella idea Lo puoi visitare Ah, pensavo che fossimo tornare al punto di partenza ti mandi vabbè domar buttiamo tutto in cacciara facciamo stand ma dai si facciamo stand madonna non c'è oddio ma si ma come si muovono ma si teletrasportano cristo merda tap tap io vado giù ma vi c'è un attimo magari se no è un burrassi e vabbè si che passa eh vabbè ciao lo prendo poi la prossima volta mi fa la rassa però sta fermo e non riesco a colpirlo ugualmente lo shooting più complesso della storia dove è andato borrassi io no ho ucciso io boh andiamo adesso ne saltano fuori il 56 eh ogni tanto si sente il forno a microonde guarda che sta fermo ma dove l'hai crimellato si ma non becca il mio cazzo mi lagga tutto mi sa è quando tu li auto spotta che senti li ok questa c'è tu rimane immobile si si stan fermi ehm non l'hanno curata molto questa ecco vedi eh ahah è rotto è rotto l'ho preso in testa e gli ha fatto il paintball il disgraziato il disgraziato ahia cosa ma dai si è incontrollabile si si è incontrollabile è una roba pazzesca è veramente brutto sparare in questo gioco cioè ci star in culo sono d'accordo però eh si 80 colpi hai visto hai visto l'ho preso 80 volte 80 volte credio credio chi consenta per l'italia dobbiamo pulire il messo come dice trap stiamo facendo ma eh vabbè cheee vabbè Oliver Harton ben arrivolo madonna tom baker qua storia guarda che dovevo prendere un'arma raffica ho preso questa qua singola per essere più preciso ma non arrivano i colpi arrivo cosa vuoi fare shish ah non te lo dice dei sugeri davanti abbiamo un brutto rapporto con le auto ok ma perché la famosezza no forse sempre il vennero what the hell is this cipa cipa qua cambio arma madonna no si 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 voglio il pompazza io eh te roda la distanza dopo fai cagare eh vabbè io sono una persona discreta io provo il tuo allora ma raffica da tre aspetta madonna vabbè ma è un caldo caldo così posso fare amore lungo lungo con m16 10 dollari ah scusa stavo facendo far a te ho detto è così impegnato con una spalla è qua però il pompazza siamo all'interno parla come mangi ti voglio matare non riesco a sentire lo spagnolo ma porca puttana ma stavo guardando te non mi ha mosso la telecamera ma vaffanculo si io canta mi stavo mi stavo spostando eh io mi guardavo a zero quindi bravo scusami io voglio andare qua boh è messo tra i posti no tutto il vino che fate vino non spagate il vino vino ci vuole più vino eh io li sto a distrare ma tu hai capito io devo passare di qua vada rotolo no non è rotolo sì io in realtà gliel'avevo demolita la porta con tutti questi golpi ah guarda guarda cosa ti butto dai full madonna a posto sì vabbè a posto eh ma guerra guerra e termonucleare abbiamo rotto la cantina col filo saluti da putin madonna c'è una sedia lì che vuole eh va ma lo deve fa eh certo eh edy a oscar faccio di merda hai visto mai i crank? sì crank lo vedi eh c'è il pezzo finale il pezzo finale del 2 esatto vabbè se tu c'è una dispersione di madonna c'è uno qua sì eh sì più potente questo cazzo con una raffina ma eh beh anche il pompa vedo che vedo che ti ti garba eh marca puttana sì ho colpito ma qui senza giù non muore due raffi che non muore guardalo eh quello sono dei pikachu perchè col pompa ho mille colpi no ma anch'io ci do veramente tantissimi colpi ad alcuni non capisco se sono dei mini boss muore muore quello lì si rompe ictus morto scusà ci sono il claymore qua cosa aspetta oddio è rotto il dolore guarda come è morto questo guarda come è morto guarda abbraccia che abbraccia un lozacchiotto immaginario mamma almeno è morto serene più in sincrono fanculo fanculo pensi che tu puoi venire in mia casa eeeh vabbè ma chi è lui harvard così eeeh si vabbè disgraccia Guarda lì come rotolano! Oh no! Morca proia! Eh vabbè! Non li vedo! Aspetta che ci avviciniamo un po', va! All'està! È una tagliela di colpi! Ah mi sto sparando a arlo! Ah no! Non era arlo! È che non andava giù! Semplicemente! Chiede scapar! Ma cosa fa? Si fermi! Sto ricaricando! No, la mia cittiva! No, la mia cittiva! No, no, la sto ricaricando! No, la mia città! Sto ricaricando a andare su! Dove stai? Eh, non ti conviene sparare! Vabbè! Però dai! Mena! Genio! Genio proprio! Che se li colpiva! Che se li colpiva volavano butto tre! Accollo e Bertone! Cosa sta succedendo in questo gioco? Ma perché lo devono? Cosa succede? La cosa? La inuncera! Ma ha preso il braccio! Cosa fa? Ti farò un'offerta che non potrei! Si si! Devo giocare a burraco adesso! Cosa vuol fare? Ma è un coglione! Pistola d'oro! Vincent si avvicina! Leo lo affronta! Vuoi avvicinarti? Dai! Disarmato! Vabbè che ci farà... Ci prenderà per il culo però! Ma io te l'hai puntato col pompa, sai? Così almeno si sfrattaglia un po'! Guarda come cammina la Tony Manero! Ma in gola! Bravo! Così mi piace! Una! No! Non me ne frega un cazzo il diamante! Come on! Vuoi essere libero! Go! Preferisco dei soldi e non una roba invendibile! Coglione! Tenta l'hotel tuo diamante di merda! Vale più la pistola d'oro comunque meglio del diamante! Sì esatto! Infatti! E anche la sua camicia tra le... Camicia arramata! Facendo filter! Nooo! Un'altra pistola d'oro! E la devi ricaricare però zio! O è il doppio caricatore? Cazzo! Lascia andare Arby! Lascia la pistola d'oro! Non posso! Te puoi far qualcosa o? Io sì, me la posso spostare! Eh... Dimmelo quando lo fai! Alla tua sinistra lo sposto sempre! Eh, ma non lo prende! Spostati! No, non lo prendo! Vieni verso di me! Eh, niente, ciao! Bene! A posto! No, devi venire verso di me perchè se sparo a destra non lo prende! Ho sparato due volte e spara il Cristo Re! Bene, dai! Che belle! Che belle fasi! Ecco, vieni verso di me così! Vieni verso di me così! Aspetta, aspetta! Aspetta! Eh, aspetta! Eh, cazzo! Boh! Eh, merda! Eh, vacca puttana! La carotide! Porca proia! Che bisogno è? È quello che... Dai! Dai! Vabbè! Eh, bello! Eh, no! Questo mi piace! Questo mi piace! Questo mi piace! Questo mi piace! Fuori le budelle! Sì, sì! Questo mi è piaciuto molto! Questo mi è piaciuto molto! Mu' gli venono giù una testa nucleare per sicurezza! Praticamente abbiamo ucciso tutti i suoi uomini! A quanto vedo! Perchè non c'è più nessuno che ci viene a romper le palle! Ah, ok! Ho parlato! Ho parlato! Come on! Oddio! Si la moto della cross è mia! Ah! La moto della cross è mia! Madonna! Leo! Get on the bike! Eh, ma dai! Dark horse time! Vai, vai, vai! Va, va, va!